Figurano anche 33 immobili tra le province di Napoli, Caserta e L'Aquila, tra i beni per un valore complessivo pari a circa 6 milioni e mezzo di euro sequestrati dai carabinieri del raggruppamento operativo speciale di Napoli e dai finanzieri del gruppo Investigazione e criminalità organizzata di Napoli a Giuseppe Fontana, imprenditore legato da vincoli di parentela con Francesco Zagaria, cognato del boss Michele. Le forze dell'ordine hanno messo i sigilli complessivamente a 26 immobili in provincia di Caserta, 6 nella provincia di Napoli e 1 nella provincia dell'Aquila. Sequestrati anche 4 terreni in provincia di Napoli, 3 società in provincia di Caserta, del settore edile immobiliare, 5 autoveicoli e rapporti finanziari. Il provvedimento è stato emesso su richiesta della DDA di Napoli dalla sezione per le misure di prevenzione del Tribunale di Santa Maria Capoavetere. Fontana, che è detenuto, è un imprenditore edile di Casa Pesenna, condannato in via definitiva per associazione mafiosa. Per i giudici è stato legato alla fazione Zagaria del Cran dei Casalesi. Venne arrestato insieme ad altre persone nell'ambito dell'operazione Sistema Medea del ROS il 14 luglio del 2015. Gli inquirenti contestarono agli indagati i reati di associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, corruzione, intestazione fittizia di beni, rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio, turbata libertà degli incanti, finanziamento illecito a partiti politici e altri delitti aggravati dalle finalità mafiose.